GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE GIOVEDÌ DELLA 38 SETTIMANA DELLE FERIE DEL TEMPO ORDINARIO CALENDARIO ROMANO SAN CLEMENTE IBEATA ENRICHETTA E MARIA ANGELA E ALFIERI SUORA E 1891-1951 PRIMO LIBRO DEI MACCABÈI 2,15-29 Ora vennero nella città di Modini messaggeri del re, incaricati di costringere all'apostasia e a far sacrificare. Molti israeliti andarono da loro, invece Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte. I messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero, Tu sei uomo autorevole e stimato e grande in questa città e sei sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti in Gerusalemme. Così passerai tu e i tuoi figli nel numero degli amici del re e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e argento e doni in quantità. Ma Mattatia rispose a gran voce, Io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Ci guardi il Signore dall'abbandonare la legge e le tradizioni. Non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra. Terminate queste parole, si avvicinò un giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull'altare in modin secondo il decreto del re. Ciò vedendo Mattatia arse di zelo, fremetterò le sue viscere e degli ribollì di giusto sdegno. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull'altare. Uccise nel medesimo tempo il messaggero del re, che costringeva a sacrificare, e distrusse l'altare. Egli agiva per zelo verso la legge come aveva fatto Pincas con Sambri figlio di Salom. La voce di Mattatia tuonò nella città, Chiunque ha zelo per la legge e vuol difendere l'alleanza mi segua. Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto avevano. Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero per dimorare nel deserto. Salmi 50 e 49, 1-2.5-6.14 Ci trattino quindi. Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion, splendore di bellezza. Dio rifulge. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno sancito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice. Offri a Dio un sacrificio di lode. E sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria. Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 19,41-44 In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. San Giovanni Maria Vianney, 1786-1859 Sacerdote, curato d'Ars Sermone per la nona domenica dopo Pentecoste, tradcb simbolo di copierette evangelizzo Gesù, dalla vista della città, pianse su di essa. La nostra anima è destinata a passare l'eternità nel seno di Dio stesso. Diciamolo in una parola, fratelli, la nostra anima è qualcosa di così grande, così prezioso, che solo Dio la supera. E proprio da questo solo, fratelli miei, vi lascio pensare se dobbiamo stupirci che Dio, che ne conosce così bene il merito, piange amaramente la perdita di un'anima. Vi lascio pensare quale cura ne dobbiamo prendere per darle tutte le sue bellezze. Tre cose sono capaci di farci piangere, ma una sola è capace di rendere meritevoli le nostre lacrime, ed è quando piangiamo i nostri peccati e quelli dei fratelli. Piangere la morte spirituale dell'anima, l'allontanamento da Dio, la perdita del cielo, o lacrime preziose, ma quanto rare! E perché, fratelli, se non perché non sentite la grandezza della vostra disgrazia, per il tempo e per l'eternità? Ahimè! Fratelli, è il timore di questa perdita che ha spopolato il mondo, per riempire deserti e monasteri di tanti cristiani, è che loro hanno compreso molto meglio di noi che, se perdiamo l'anima, tutto è perduto, e che bisognava allora che fosse di un gran valore, se Dio stesso la teneva in così gran conto. Sì, fratelli miei, tanto hanno sofferto i santi per custodire la loro anima per il cielo. Sì, che si tratta di un'altra volta